Senza l'arancino, il fatto dell'arancino col pesce invece dell'arancino. No, abbiamo parlato, parlare è sempre utile, abbiamo parlato di cose da fare, non di posti da spartire come ho detto sui giornali, quindi ho chiesto un incontro non a tavola, senza arancini, ma con la penna e col foglio di carta per mettere nero su bianco, che idee abbiamo d'Italia, a che età la gente va in pensione e con quale pensione, qual è la riforma della scuola, qual è la riforma del lavoro e quindi una cena utile sicuramente.